C'è stato oggi, 30 luglio 2024, serata qui in Italia, un ride da parte di Israele, quindi del presidente Netanyahu, nei confronti di Beirut, per quale motivo? Semplicemente per andare a colpire il capo di Esbolla. C'è stata questa escalation, non bisogna sottovalutare questi ride perché possono addirittura creare, diciamo così, delle vere e proprie guerre ancora più forti, ancora più profonde, ancora più intense, e di conseguenza vi consiglio di utilizzare la massima attenzione e soprattutto non sottovalutare anche questi ride che avvengono da parte di Israele o da chi per lei. Il VF intanto avrebbe detto responsabile della strage del Golan. Ovviamente è stata la risposta da parte del Libano, decine di casi infatti, pensate che sono stati letteralmente lanciati. Ecco, purtroppo questa guerra, questo conflitto israelo-palestinese ancora oggi persiste in una terra martoriata, la situazione non è delle più belle, delle più cristalline, e di conseguenza mi sento di dire che il bilancio, o meglio la situazione, andrà ad aggravarsi tremendamente parlando. Mi dà l'opinione sia ben chiara. Grazie a tutti, carissimi utenti di Youtube, il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, datevi le vostre opinioni, citemelo a verle, una buona serata a voi tutti.